ciao ragazzi oggi voglio parlarvi di molini pizzuti che mi ha omaggiato di questa nuova linea easy che prevede preparati per pizza pane gnocchi e fritti li proveremo in anteprima allora abbiamo questa linea per i fritti quindi per creare delle pastelle super buonissime con carne pesce e verdure poi abbiamo questa di qua per gli gnocchi che sono pronti e freschi in dieci minuti non vedo l'ora di provarli un'altra per i fritti un'altra per gli gnocchi e poi abbiamo questa di qua che per la pizza focaccia o calzone facilissima da poter fare poi comunque questa azienda molini pizzuti proviene da salerno quindi della campana quindi chi meglio di loro sanno fare la pizza quindi lì ci saranno tutte ci sono tutti i consigli per l'utilizzo e appunto anche altri suggerimenti dal loro pizzaiolo e poi infine abbiamo lì si pane dove comunque si è un preparato per poter realizzare il pane con farina tipo zero farina di segre e lievito madre e sale fantastico non vedo l'ora di poter mettermi all'opera ciao